Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto alla Genova. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti. Gli ingredienti sono basilico, pecorino, parmigiano, olio, pinoli, aglio e sale. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale il pecorino e il parmigiano. Chiudiamo. 15 secondi, velocità a 10. Vediamo adesso l'aglio e i pinoli. Chiudiamo. 10 secondi, velocità a 10. Andiamo a mettere adesso il basilico. Il sale. E l'olio. Chiudiamo. E andiamo a mescolare per 30 secondi. A velocità 7, spadolando. Il nostro pesto è pronto. Andiamo a mettere in una cialolina. Pesto alla Genovese. Grazie e alla prossima ricetta.